Io non avrei mai aperto un canale YouTube se non pensavo che sarebbe dietro il mio lavoro Io quando ho aperto il canale YouTube il 25 gennaio 2017 ho caricato anche il primo video lo stesso giorno Ed all'inno ho caricato altri 6.000 Ho imparato a parlare di diafranco Il fatto che sia grasso Io non ho veramente tempo di guardare con un istantone, io sono un cavallo con i parodi Io vado, 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 vado e non esiste niente E tra l'altro, chiunque mi ha arrestato davanti, io lo scondo